Passiamo, come stavo dicendo, all'altro punto, che è quello dell'audizione dei candidati per la nomina di direttore dell'Olaf. Come tutti voi sapete, è stata selezionata una lista, una rosa di sei candidati, che dovremmo audire nel pomeriggio di oggi e nella mattina di domani. Onorevole Alfano. L'ultima domanda, se può confermare di essere stato coinvolto in una denuncia per mobbing nei confronti di un alto ufficiale della Guardia di Finanza? E in caso affermativo, se può spiegare le circostanze a cui fa riferimento questa denuncia? Grazie. Non sono certo di quello di cui lei sta parlando. Dunque, per quanto riguarda il fatto che io fossi membro di un sindacato, quando ero procuratore capo, io in Francia ho avuto dei contatti con i sindacati della magistratura in Francia. Per il resto, non ho capito bene a che cosa lei faccia riferimento. Forse può essere più precisa la domanda che lei ha fatto sul mobbing. Mobbing. Parlerò anche più lentamente così da dar modo ai traduttori. Dunque, io desidero sapere se lei ha maturato quell'esperienza richiesta da almeno cinque anni in funzione di management di alto livello. E se sì, dove e con quale ruolo. Poi, se ha fatto parte di associazioni di categoria e non, ed eventualmente per quanto tempo fa e con quale ruolo ha partecipato. Lei poco fa parlava di un sindacato, però io vorrei sapere se era proprio un sindacato o un'associazione. L'ultima domanda, io desidero sapere se lei è stato coinvolto in una denuncia per mobbing da parte di un alto ufficiale della Guardia di Finanza. E se lei, se conferma questa circostanza, se può spiegarci di più, se può dirci di più rispetto a questa denuncia eventuale. Sì, sono stato membro. Lei parla di un'associazione in Francia, però è la stessa cosa. Un sindacato è sempre anche un'associazione in termini giuridici. Quindi sono stato membro per un certo numero di anni, non mi ricordo quanti, membro dell'associazione professionale dei magistrati francesi. Sì, le posso inoltre dire che ho l'esperienza di management di più di cinque anni a livello di tribunale. Per esempio, sono stato procuratore capo in Francia per sei anni e mezzo, dove eseguivo anche i compiti di management sul bilancio, per esempio. Cosa che non riguarda il lavoro quotidiano di un procuratore capo. Quando sono arrivato in questo tribunale, questo tribunale assomigliava a un tribunale del XIX secolo. Quando partì nel 1993 era diventato un tribunale del XXI secolo, modernizzato completamente. E ho fatto fare molti investimenti in questo tribunale per creare migliori condizioni di lavoro per tutti. Poi lei parla di una querela, una lamentela. È vero, ho ricevuto recentemente da un funzionario della Guardia di Finanza e ho chiesto l'applicazione dell'articolo 24. Per quanto io so, è una causa ancora in corso e sto aspettando il risultato del servizio di mediazione della Commissione che è incaricato di risolvere questo problema in concomitanza con il direttore generale dell'Olaf.